salve a tutti e allora come uno turbo questa volta abbiamo a disposizione altre due testate in questo caso andiamo a sfruttare anche un tipo di collettore che verrà modificato con un cassonetto più ampio quindi in questo caso è stato saldato qui la circolazione dell'acqua e poi verrà sfruttato per soltanto per andare un po a sistemare i condotti adeguarli un po alle sezioni che andremo a vedere un po dopo la lavorazione della testata nel senso che anche in questo caso andiamo a sfruttare una vecchia testata che mi è stata recapitata che era avevamo usato qualche altra volta per le delle prove quindi è ritornata per fare delle prove e in questo caso andiamo a fare una ricostruzione della camera di nuovo come abbiamo fatto nell'altra testata precedente quindi andiamo a togliere questo svuotamento fatto per un area per abbassare un po il rapporto di compressione e lo andiamo a ricostruire per rifare un po questa cameretta sul 1.400 quindi in questo caso andiamo a mettere del materiale e nello stesso tempo andiamo a sfruttare con delle sezioni di lavorazione diverse anche se in questa testata lo scarico era fatto un po più ampio quindi come sezione un po all'uscita erano al limite del collettore quindi andava a rifare un po di riflusso e la turbina non andava più a fare pressione quindi in questo caso possibilmente andiamo vediamo o di mettere un po di materiale per andare a sfruttare le sezioni di passaggio perché andiamo a fare una simulazione in questa per mettere delle varvole più grande in questa per vedere come si va a comportare quindi al di là che qua poi si andranno a cambiare le guide si farà dell'altro tipo di lavorazione a livello di condotti che ancora è originale alla testata quindi proprio per eseguire proprio per eseguire delle lavorazioni passo passo quindi andiamo a fare prima di lavorare un po le sezioni dei condotti adeguiamo un po prima il passaggio sulle sete valve quindi andiamo un po a sessiamare quello che c'è da sessiamare in questo caso anche in questa sera fatto un lavorazione di come miglioramento in camera lo andiamo a ricreare o in questo oppure visto che già qua in cilindro già è stato fatto lo andiamo a sfruttare con questo tipo di valvola quindi se c'è qualcosa da andare a sessiamare e lo faremo in questa proprio perché anche in questa è stato tolto quel famoso gradino che poi andava un po a peggiorare quello che c'era del riempimento quindi valuteremo anche questo se in questa testata va a migliorare proprio sia dei flussaggi che anche quel comportamento che si è visto poi che andava a perdere e allora purtroppo se faremo qualche prova in più proprio perché monta una valvola rimonta l'altra quindi aggiusteremo un po il condotto e andiamo a sfruttare questa quindi ci saranno diversi passaggi proprio per la testata monta e rimonta per fare delle prove su questa e poi alla fine si faranno su questa che si andrà a lavorare ma sfrutteremo i passaggi dei condotti prima di andarlo un po a sistemare o aumentare di sezione che poi valuteremo se c'è bisogno per lo meno anche sullo scarico vediamo come si va a comportare sull'altra perché a volte non è detto che aumentare una sezione va a migliorare tranne se già come diametro non siamo già sufficienti rispetto al passaggio sete valvola e quindi più che altro il prolungamento del tipo di prove sarà soltanto di andare un passo alla volta quindi vedrò di far comprendere di volta in volta se il tipo di lavorazione che è stato fatto ha portato dei miglioramenti oppure no quindi in questo caso andremo prima a flussare la testata originale e poi inizieremo con dei passaggi successivi di simulazione sull'altra d'accordo vediamo come si fanno a comportare poi vediamo i dati su quello che andremo a fare eccoci qua con la testata finita quindi andiamo a fare ora l'ultimo controllo per vedere la fase finale della della prova anche se se andiamo un po a valutare dopo qualche altro accorgimento un po sulla testata sulla sul 1600 questa lavorazione qua andiamo a sfruttare di più invece qua sul 1400 si va a evidenziare un po di meno il guadagno che si ottene facendo questa lavorazione anche perché si avvicina un po l'effetto parete quindi va a disturbare un po questo tipo di di lavorazione cioè non influisce nemmeno va guadagnare più di tanto cioè un po lo va a creare se andiamo a lavorare bene a livello di inclinazione di condotto di interno della testata al di là che poi qui verranno sostituite le guide con un particolare disegno quindi lo scarico con gli angoli arrotondati e l'aspirazione un po conica però sempre con gli spigoli arrotondati non va a comportare grosso ostacolo per il discorso proprio di questa lavorazione ripeto un po ci serve anche per il rapporto di compressione volendo però sul 1600 andava a guadagnare di più perlomeno anche la valvola più grossa va a incidere sul rendimento del guadagno su quel tipo di testata del 2006 sul discorso dello scarico invece anche se andiamo in questo caso un po a montare delle valvole leggermente più grandi ma soltanto per dare più velocità lo scarico all'uscita quindi sarà aumentato leggermente un po il passaggio interno di mezzo millimetro quasi un millimetro non di più anche se andiamo a montare una valvola 32 5 lo scarico invece verrà soltanto raccordato e quindi con misura andiamo leggermente sui cinque decimi di materiali che andiamo a togliere sull'aspirazione vedete un po la lavorazione con tela grosso taglio con un incrocio oppure andare a pallinare internamente la superficie di delle pareti del condotto poi per le dimensioni allora mi sono ritrovato con quelle due testate del 2006 però non mi hanno dato nessun spunto di miglioramento su questa proprio perché già i condotti sono più grandi e andava un po a non dare risultati quindi ci sarebbe da valutare con un'altra testata e fare delle prove perché ho visto che lasciando delle parti non lavorate della testata alla fine tra questo profilo e l'altro andava ad essere uguale quindi si può adottare anche un disegno diverso interno ma ritornare indietro non si può però voglio dire non andiamo a disturbare in questo sistema o perlomeno andiamo a migliorare al livello delle delle onde che viaggiano avanti e indietro nel condotto quindi un po questo è stato un po la scelta poi qui l'imbocco lo abbiamo sempre aumentato leggermente per non creare il riflusso sull'aspirazione che questo cassonetto verrà ora saldato con una camera più ampia rispetto all'originale e quindi è stato raccordato all'interno sempre con la lavorazione a incrociare e sulla parte interna del collettore vedete lo stesso risultato andiamo a vedere un po sempre sulle pareti e quindi aumentare un po la sezione è stato proprio perché qui all'imbocco proprio la sezione ce la troviamo era leggermente più stretta di quello che ci sarebbe servito quindi è stato aumentata pure portata con adeguamento per la testata e quindi ora andiamo un po ad avere il risultato finale e vediamo di determinare che il discorso della testata poi verrà completato con una lavorazione con guide da 7 mm e delle valvole speciali con stelo 7 quindi andiamo ad avere un ulteriore profilo delle valvole che va a incidere un po sul guadagno che abbiamo su questo tipo di testata e poi per livello di rapporto questo tipo di saldatura che viene fatto è un po per andare a irrobuscire questa parte dove si va a caricare l'anello della guarnizione per motore turbo e allora già fatte le due prove con sia collettore che testata e ho visto che sul collettore non andiamo a perdere nulla per piccolissime cfm proprio dopo 11 mm quindi che cosa voglio fare adesso prima di andare a vedere un po il risultato delle due prove proverò una valvole con un diametro maggiore perché nelle varie fasi di lavorazione ho fatto delle modifiche e ho visto che anche con una valvola più grossa in aspirazione andavamo a migliorare quindi una volta che è completata la testata faremo quel tipo di prova quindi monteremo una valvola più grande di aspirazione anche se non è quella definitiva ma voglio cambiare tipologia quindi lasciare lo scarico con quel diametro originale e lavorare sull'aspirazione anche perché lo scarico ho visto che cambiando soltanto il profilo con quella speciale già andiamo a migliorare di tanto quindi va bene già il condotto lavorato in queste condizioni ma un po andiamo a vedere i risultati dopo le due prove e allora eccoci qua con la lavorazione finale quindi questa è la curva del lavoro del condotto finale e andiamo a vedere qualcosa che al di là che questo è ancora migliorabile voglio dire ora andando a vedere il profilo ma andando a mettere la prova del collettore vediamo che dalla curva vedete qui va perché va a perdere proprio pochissimo qui 11 mm di alzata quindi è in influente e quindi il collettore va a lavorare bene sulla testata sia come dimensionamento ma anche come portata in questo modo se andiamo a togliere il collettore ho fatto un ulteriore modifica come vi ho detto prima piuttosto che andrà a modificare il discorso della valvola di scarico anche perché mettendo quella speciale e lasciando il passaggio del condotto invariato diciamo andrà sicuramente a migliorare più di quello che è stato fatto ma sull'aspirazione provando una valvola più grande e lasciando tutto sia il condotto che il passaggio sede valvola uguale anzi ci sarà da adeguare l'appoggio valvola per la valvola più grande quindi sicuramente andrà a migliorare ulteriormente questa prova vedete qua ecco questa è la prova contestata con una valvola di dimensionamento uguale per quello che è la sede ma se andiamo a montare una valvola più grande vedete che va ad aumentare la velocità dentro quindi dentro la camera e automaticamente al di là del passaggio condotto sia come condotto ma anche come passaggio sede vedete che va a migliorare quindi questa modifica andrà fatta e un ulteriore poi sviluppo sarà fatto in qualche altra testata che ne avrò a disposizione aumentando ancora sia il dimensionamento del condotto ma andremo anche a vedere di cambiare sia inclinazione per vedere di sfruttare questo miglioramento della valvola più ampia quindi andiamo un po' a vedere ora a livello di guadagno di quanto va a incidere sulla partota originale e questa diciamo finale che ancora ci sarà da un po' da lavorare più avanti e allora vediamo di andare a vedere qui e allora vediamo qua questa in blu è la prova della portata originale e questa con la lavorazione e anche poi con dimensionamento del valvola adeguata quindi va un po' a cambiare un po' tutto l'utilizzo del motore che andiamo a modificare quindi ci sono qua 10 CFM di guadagno sia nelle basse aperture oppure per poi anche sopra andiamo come qua andiamo a vedere dai dati andiamo ad avere pure 25 CFM di portata a 14 mm non ci arriveremo ma voglio dire la portata come guadagno c'è nell'ampio di tutta la curva della prova va bene andiamo un po' a risentirci in qualche altro video e vediamo di migliorare qualcos'altro poi anche sullo stesso tipo di motore ma con delle lavorazioni diverse e vediamo di migliorare qualcos'altro